Ciao ragazzi, qui è Suorso Brett. A noi empatici a un certo punto conviene imparare a farci rispettare, perché un conto è metterci nelle scarpe degli altri, un conto è lasciar loro tutto lo spazio che poi possono prendersi. Quando parlo di loro mi riferisco ai nostri interlocutori, alle persone a cui vogliamo bene, quelle che interagiscono con noi più spesso, a cui dimostriamo un particolare attaccamento anche dal punto di vista affettivo. E così, quando finalmente, dopo dai e dai, dopo diverse esperienze, specialmente con persone che hanno approfittato del nostro cuore, della nostra apertura, della nostra gentilezza, della nostra disponibilità, quando, dopo delusioni anche vissute in ambito amoroso o anche all'interno di amicizie, quindi rapporti privilegiati, riusciamo finalmente a dire di qui non si passa, per farci rispettare, quasi ci sentiamo in colpa. Ah, io direi ragazzi che possiamo anche aspettare qualche tempo, ma dobbiamo abituarci a metterli questi limiti, questi paletti. Il rispetto è una delle cose più importanti in amore e in amicizia.